Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo zaino d'alpinismo di Tatonka, modello cima di basso 40. Uno zaino che vi assicuro mi ha sorpreso tantissimo sia per le feature ma soprattutto per il materiale con cui è realizzato. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito da qualche dato fornito dalla casa costruttrice per questo cima di basso 40. Come dicevo è un 40 litri, esiste anche la versione femminile da 38 litri. E' realizzato con un materiale cordura 400 denari, il tutto per un peso di 1,4 kg. E adesso come abbiamo visto qualche caratteristica, iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dallo schienale di questo Tatonka cima di basso. Troviamo uno schienale che va a diretto contatto con la schiena, naturalmente. E' uno schienale che a livello di traspirabilità diciamo che è nella media. La traspirabilità non è sicuramente il suo punto di forza ma non è neanche un punto di debolezza. Ho utilizzato in giornate dove la temperatura magari sta tra gli 0 e i 10 gradi, ci si trova molto bene, non si suda. Quando si inizia a trovare giornate tra i 15 e i 20 gradi in su, ecco, lì magari si suda un pochino di più. Devo dire però ha un ottimo schienale per quando andiamo a trasportare tanto carico. Ci tristruisce molto bene il peso e anche se andiamo a portare piccozze, corde, tutto quel materiale che ci può servire per fare alpinismo, non avremo dolori alla schiena. Questo grazie anche alla fascia lombare che in questo caso è fatta in un materiale diverso, più traspirante. Una fascia lombare che volendo si può togliere per quando andiamo a mettere l'imbrago. E sulla fascia lombare troviamo nella parte di destra una piccola desicenne dove andare ad attaccare un moschettone, un rinvio, comunque quello che abbiamo bisogno. E nella parte di sinistra invece una piccola taschina dove andare a riporre il telefono o una barretta. La parte anteriore è chiusa da una clip bella grossa. Vi assicuro che anche a pieno carico, anche se con questo zaino ci portiamo 12-15 kg, non avremo nessun problema che la clip si vada ad aprire. Vi ho già spoilerato quanto ci andrai a portare. Diciamo che tra i 10-12 kg ci si va tranquillamente. Limite starei sui 15 kg quando magari abbiamo anche la corda e siamo veramente molto carichi. Non andrai oltre però questi kg. Per quanto riguarda poi gli spallacci, anche loro fatti molto bene, lo stesso materiale con cui è fatto lo schienale, hanno una sezione normale, né troppo grossa né troppo piccola. Non segano le spalle anche quando lo zaino è pienamente carico. Che dire, diciamo che anche loro sono nella norma, nulla di troppo eccezionale. Sulla parte anteriore poi naturalmente troviamo anche la chiusura pettorale con il fischietto che ci aiuta a scaricare un po' di peso. Tato Onka, iniziando dai lati. Vi preannuncio che i lati sono simmetrici, quindi ne vediamo solamente uno. Nella parte laterale cosa troviamo? Nella parte bassa una taschina dove possiamo andare a riporre sia una borraccia, ma anche volendo dei ramponi, nel momento in cui non utilizziamo più. Ed è una tasca elastica, molto elastica, che le permette di andare ad aderire completamente allo zaino. Se invece volessimo trasportarci all'esterno degli sci o comunque dovessimo fare un qualche passaggio, magari dei canalini, e non vogliamo che questa possa andare a incastrarsi nella roccia. Quindi davvero una tasca studiata veramente molto molto bene. Nella parte superiore poi abbiamo due cinghie, entrambe apribili, che ci permettono sia di poter portare all'esterno degli sci, sia di poter andare a richiudere lo zaino se lo utilizziamo da mezzo vuoto. Mi piace soprattutto il fatto che siano apribili entrambe, perché tornano veramente veramente comode, soprattutto per poter trasportare anche degli oggetti particolarmente lunghi o delle ciaspole. Arrivando alla parte posteriore vera e propria, avrete sicuramente già visto questa zip che corre a tutta lunghezza dello zaino. Vi stupirò perché questa zip non serve per aprire lo zaino e prendere il materiale all'interno. Questa zip rivela una tasca elastica al suo interno, dove possiamo andare a riporci diversi oggetti che vogliamo tenere nella parte esterna, oppure anche un casco. Possiamo benissimo portare un casco d'alpinismo e andare a riporlo in questa tasca. E poi una volta che andremo a indossare il nostro casco, possiamo richiudere la zip facendo sì che la tasca non vada a sbalonzolare o ci dia fastidio in movimento. Davvero, devo dire, molto ben studiata come tasca, mi ha tantissimo sorpreso. Per quanto riguarda invece la possibilità di prendere gli oggetti anche nella parte bassa, troviamo un ulteriore zip posto nel lato di sinistra che ci permette di andare ad aprire lo zaino praticamente dalla parte inferiore all'apertura superiore. Questa zip ci permette davvero di poter aprire lo zaino e prendere gli oggetti sia che si è messi in basso sia che si è messi a metà. È una zip che non fa neanche entrare l'acqua, quindi davvero studiata molto molto bene. Sulla parte posteriore poi abbiamo naturalmente la possibilità di poter portare o due piccozze o una piccozza o i bastoncini oppure due bastoncini sdoppiati. Classico di tanti zaini d'alpinismo. Per quanto riguarda la chiusura superiore, questa è abbastanza classica. Abbiamo il classico cordillo da andare a tirare per andare a chiuderla. E abbiamo anche una fibia passante che ci permette di poter portare una corda e metterla bella stretta. Quindi anche qua una feature veramente interessante. L'unica cosa che mi ha fatto un attimo storcere il naso è una taschina del cappuccio. Qui ne abbiamo due. Quella esterna, classica, lavora molto bene, ottima la zip. Sul cappuccio troviamo anche il riflettore Recco che davvero per la nostra sicurezza è ottimo averlo. Quella che mi ha fatto un po' storcere il naso è la tasca all'interno. Perché è una tasca che è chiusa solamente da un pezzettino di velcro. Diciamo che a me è capitato, soprattutto se si ha magari il cappuccio bello pieno, di andare ad aprire il cappuccio se andava ad aprire questa parte di velcro e qualcosa cadeva giù. Non penso che questo velcro sia il modo più sicuro per andare a chiudere questa tasca. Se avessi trovato magari un bottone, qualcosa diciamogli un pochino più duro e più difficile anche da aprire, l'avrei apprezzato. Lì tendenzialmente magari andrei a mettere un qualcosa che se proprio dovesse saltare fuori non è un grosso problema. E in più il cappuccio è anche staccabile. Ci sono due clip che andiamo a premere per poterlo staccare. È facilissimo togliere il cappuccio ed è altrettanto semplice rimetterlo una volta che ne avremo bisogno. Per quanto riguarda il comparto acqua, come vi dicevo possiamo portare delle borracce all'esterno grazie alle taschine elastiche. È compatibile con la possibilità di mettere all'interno una sacca d'acqua, con la possibilità di far uscire l'acqua sul davanti per bere. Naturalmente essendo uno zaino d'alpinismo non ha un rain cover. C'è da dire però che il materiale con cui è fatto un minimo di idrorepellenza ce l'ha. Nel senso che se prendiamo una nevicata blanda non si bagnerà la roba all'interno, ma se proprio ci prendiamo un acquazzone o una nevicata intensa allora si bagnerà tutto. Ma visto che ve lo accennavo parliamo di materiali. Questo zaino è fatto con una cordura da 500 denari. Vi assicuro questo zaino non dico che è indistruttibile, ma ci andiamo molto vicino. È uno zaino veramente fatto con un materiale ottimo. Con questo zaino potrete strusciare su qualsiasi tipo di roccia. Potrete anche portare dentro i ramponi senza aver paura che questi taglino lo zaino. Davvero devo dire un materiale molto prestazionale. È un materiale che vi farà durare lo zaino tantissimo. Arriviamo alle conclusioni e parliamo anche del prezzo di questo Tatonka a cima di basso 40. È uno zaino che Tatonka vende a 200 euro. Online lo si trova tranquillamente anche sui 160-170. Vale la pena spendere questa cifra per questo Tatonka? Secondo me sì. Innanzitutto perché ha delle feature veramente molto molto interessanti, come la possibilità di portare il casco e via dicendo. Ma soprattutto per il materiale. Vi assicuro che questa cordura vi permetterà di utilizzare questo zaino anche per 10 anni senza nessun problema. Va bene, magari esistono degli zaini d'alpinismo che costano anche meno. Però questo materiale veramente vi permetterà di utilizzarlo tanto tanto tempo. E non dovrete avere paura che si rompa. Perché la cordura è un materiale veramente molto resistente. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauramente esattivo anche per questa recensura. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!